In Vicolo Scuro, una traversa di via Posta Vecchia, si trova il Museo del Vino. Realizzato nel 1998, conserva centinaia di attrezzi usati dai vignaioli marinesi. Le rare attrezzature enologiche vitivinicole sono tutte provenienti dalla collezione privata della famiglia Fabi, erede di un'antica tradizione contadina. Il museo approfondisce un aspetto che ha caratterizzato da sempre l'economia marinese, il vino e i suoi processi di lavorazione, dagli strumenti di lavoro nei vigneti alla finale vinificazione dell'uva. La raccolta assolve oggi a una specifica funzione didattica e divulgativa sul rapporto tra gli oggetti domestici e di lavoro e la società che li ha prodotti. Grazie a tutti. Grazie